Aeroporti e tratte in continuità via libera all'utilizzo da parte della regione di 30 milioni di euro. L'approvazione dell'assestamento di bilancio era scontato, così come sul fronte dell'unificazione e della gestione dei tre scali aeroportuali isolani, è oramai evidente che si andrà alla cessione delle quote F2I e attraverso il suo tramite al Fondo di Investimento Mondiale BlackRock. Se questo non si può evitare, e ci chiediamo il perché, se non per scelta politica, è importante capire come la regione intende essere della partita. 30 milioni di euro sono ben poca cosa, a meno che non rafforzati da un accordo societario in cui, per statuto, la presenza simbolica della regione Sardegna nella società aeroportuale regionale assume il ruolo di garante del servizio essenziale e quindi scale aeroportuali, porte da e per l'isola, costituiscono in misura centrale. Da qui all'altro particolare aspetto, relativo alla gara d'andata deserta per lo scalo di Alghero, la cui dubbia appetibilità per i vettori aerei ha determinato. La Commissione europea ha pubblicato le sue nuove procedure di gara aperta per l'affidamento in esclusiva dei servizi in continuità territoriale per le tratte Alghero-Milano-Linate e Alghero-Roma-Fiumicino. Qui ha consentito alla regione di aumentare le risorse a disposizione aumentando le basi d'asta del 46% e del 68%, un incremento sostanziale che dipende essenzialmente dal mercato e che può orientarsi diversamente anche per gli altri scali fino a conseguire un incremento non dissimile. E su questo aspetto è necessario procedere sul piano normativo europeo relativamente al contesto regionale specifico al fine di evitare possibili e ulteriori lievitazioni dei costi dei servizi cui la condizione geografica potrebbe determinare.